Debuttò in televisione a nemmeno tre anni nella telenovela Nuestra Galleguita, e poi in una trasmissione presentata da Teresa Blasco. Successivamente, partecipò alla famiglia Oiduerme Ancasa e ad Abiase Una Vezun Circo. Con i famosi clown spagnoli Gabi, Fofo e Milichi, recitò in seguito in un'ingelelle l'amado Andrea. Dopo che questa sopopera le diede maggiore celebrità, cominciò a girare film come Pab Corazon Sequiere Casar nel 1974. 1984. Seguito da Un Mondo di Amor, Por Siempre Mam, Andrea Celeste e, nel 1980 di As De Illusion. Negli anni Ottanta finì nelle pagine della stampa scandalistica per la sua relazione con Raul de la. Torre, che era sposato, segnatamente nel 1986, quando de la Torre e la moglie litigarono violentemente di fronte ad Andrea. Che dovette testimoniare su quanto era accaduto. L'attrice consolidò la posizione di regina delle telenovelas con le serie Stellina, 1987, Celeste, 1991, Antonella, 1992, Celeste 2, 1993, Perla Nera, 1994, e Zingara, 1996. Nel 2000 divenne madre dopo una breve relazione con Riccardo Biasotti che si ruppe prima del parto, dando alla luce Anna Clara. In precedenza aveva avuto una relazione con Jeffrey A. Sacks, il 18 maggio 2009 e ospite di Alda De Usanio a ricominciare su Rai 2, per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. L'ultima telenovela a cui ha partecipato è Esa Muir, prodotta nel 2013 per TV Pubblica Digital, oltre alla nazionalità argentina anche quella italiana. In quanto suo padre Nicolai è originario del comune di Boca in provincia di Novara, e possiede una casa a Roma.